Siamo alle solite, come ogni estate si ripete, come un disco rotto, la lagna, la lamentela sul mare sporco. Da nord a sud, da est a ovest della Calabria, molte acque costiere risultano inguardabili. Vedi dati sconfortanti di lega ambiente, che nonostante vengano smentiti dall'Arpical, testimoniano e fotografano una situazione demoralizzante. E sappiamo che è così. Tale realtà risulta ancora più avvilente, perché si sa qual è la causa. La cattiva depurazione delle acque, a volte l'assenza di depuratori o il cattivo funzionamento di essi sono la base di questi problemi. Ma ancora più grave è che dove esistono i depuratori e funzionano bene, come quello di Gioia Tauro, ci sono i furbetti di turno. È il caso della bellissima Costa Viola e della Tonnara di Palmi, dove come ogni anno, nei mesi di punta dell'estate, luglio e agosto, si ripete questo spettacolo, brutto, triste, scoraggiante, deprimente, vedere uno dei posti più belli della Calabria, ridotto in questa maniera. Stranamente a settembre, giugno e ottobre, questo fenomeno si attenua in modo considerevole, se non a svanire del tutto come le magie di un prestigiatore. Questo può significare che molte abitazioni nelle vicinanze della costa, nei mesi estivi, tornano a essere vissute e si ripopolano per il ritorno di molti vacanzieri, per un aumento naturale della popolazione in tempo di vacanze. E con molta probabilità molte di queste abitazioni non sono collegate alla rete fognaria e di conseguenza tanti scarichi finiscono senza filtro nel nostro mare. A questo punto ci si chiede perché le autorità competenti non intervengono, è una condizione che si sta ripetendo ogni anno, ormai da qualche decennio, perché le amministrazioni locali sottovalutano il fenomeno e fanno finta di niente, ripetendo che è tutto sotto controllo, perché le forze dell'ordine, la magistratura, la guardia costiera restano inermi di fronte a tale delitto ambientale, perché non interviene nessuno? Bisogna aspettare la corrente giusta e favorevole per farsi un bagno in un mare pulito? E quando questa non c'è, restiamo con questo mare? Anche i bambini ormai capiscono che il turismo in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, potrebbe essere il volano per uno sviluppo economico importante, ma quando si vedono questi spettacoli è inutile ululare alla luna, parlando di mare pulito, strutture, turismo, potenzialità, eccetera, 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 perché continuando di questo passo non resterà nulla di così bello. Datevi una mossa, non possiamo permetterci di distruggere una natura così lussureggiante, così bella, per un'inerzia che sta lentamente uccidendo la nostra amata Calabria. Non possiamo permetterci un'ignavia di tale portata, la Calabria e i calabresi meritano di più.